Musica Musica Cos'è questa pianta? Musica 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 De Apache è una statua egiziana del 1200 a.C. e un dono del Napoleone al Melzi dopo la sua campagna d'Egitto la vista è tutta la Tremezzina e là al centro c'è la Villa Carlotta e invece sulla sua destra quel promontorio è la Villa Baldianello e poi dopo c'è stato il suo figlio e adesso c'è il figlio di questo Luca che ha 84 anni si questa qua era a Milano e l'hanno portata qui ed è il marmo bianco ma sarebbe un marmo per interni tanto che un giorno è un marmo per interni ma si è un poverino ha 18 anni due femmine e una femmina sposato da Dallati Scotti che poi sono i discendenti e tuttora proprietari invece qua abbiamo l'imperatore d'Austria che arvinando prima Marianna la sua moglie già il dono del Napoleone al Melzi è la dea della guerra e tiene in mano le chiavi della vita un fiordioso ed è stata posta in direzione sul calar del sole è del 1200 a.C. è del 1200 a.C. le chiavi non ci sono più e qua due statue invece erano negli anni precedenti come ho visto delle foto erano là al laghetto c'era un piccolo laghetto nel 1940 Mario Soldati con piccolo marmo il mondo antico utilizzò questa imbarcazione per il tuo film è una lampe bella andava sia a remi che a vela questa statua sono due statue della porta che fu un allievo del Michelangelo ed è Apollo che sfida il sole e questo sta a indicare la riservatezza della famiglia e che la gente viene non parlano e sono molto discrete questa è la carta dopo questa è la carta dopo questa è la carta dopo quando costruirono ha scritto però le due braccia la terra e il della porta allievo di Michelangelo c'era il marmo bianco le statue sono appena state pulite sono veramente cari e belle attenzione e 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